Poi ti voglio dire un'altra cosa, giù alla strada di Vado Canale ci stanno quattro famiglie e avevano detto di metterci lampioni questi fotovoltaici La vecchia amministrazione aveva detto La vecchia amministrazione E tre lampioni so Tre lampioni Sulle illuminazioni la posso dire? Aspetta, ti dico pure un'altra cosa e poi te passo E poi, essendoci quattro famiglie, queste ogni volta devono salire su per strada e a buttare la mondenza Allà se potrebbero, abbiamo trovato già un posto con i signori, se potrebbero locare i cassonetti per i fiumi